Tutto pronto per la domanda di ripescaggio. L'incartamento del Taranto Football Club 1927 sarà consegnato nel tardo pomeriggio alla sede della Liga Pro a Firenze e a quella della Federcalcio a Roma. La delegazione della dirigenza rosso-blu e della fondazione Taras, composta da Gianluca Sostegno, Armando Casciaro e Pazio Prete, è partita nelle prime ore del mattino per raggiungere le due città. Il plico verrà protocollato, pertanto, con un giorno di anticipo rispetto alla scadenza per la presentazione delle domande, fissata per le 19 di domani, 26 luglio. Poi inizierà la valutazione delle carte e la lunga attesa. Il 27 luglio è in programma una prima riunione della Lega Pro per l'esame dei documenti. Il 28 luglio il Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà sul ricorso di riammissione della Paganese. Il 4 agosto arriveranno infine i verdetti del Consiglio federale. Il Taranto spera e aspetta.